Un messaggio della Federazione Galattica, di Aurora Ray, 8 agosto 2020, traduzione marina. Perché molti linktorker non stanno lavorando affatto per la luce probabilmente vi siete imbattuti in quelli che parlano solo di amore e luce e angelio e ti, ma non parlano mai dell'elite cannibalistica pedofila satanica di questo pianeta che vi ha tenuto schiavizzati per migliaia di anni, alcuni hanno anche l'audacia di dire che bisogna stare lontani da chi lo fa e che questo è un concetto 3D che vi impedirà di ascendere, vi chiediamo gentilmente di mettere in discussione questo concetto, da quando l'ignoranza deriva dalla verità, la luce e informazione, perciò l'oscurità e la mancanza di informazione, per ascendere alla quinta dimensione che risuona con la frequenza dell'amore incondizionato, voi come razza, dovete elevare le vostre vibrazioni a quella dell'amore incondizionato, avete bisogno di luce per accedere a questo amore, questo è la conclusione, la luce viene prima, quando un umano affronta il male di questo pianeta, e diventa luce informata, entra nelle cellule dell'essere e ne modifica la frequenza, l'abilità di mantenere la luce è direttamente proporzionale al coraggio di vedere l'oscurità, è stata l'umanità a guardare dall'altra parte, a non fare ricerche, a non essere preoccupata, a non voler gestire la dolorosa verità oscura del loro pianeta, ridicolizzando i teorici della cospirazione, e la loro dissonanza cognitiva collettiva, che ha dato potere al male, è responsabile dei crimini mostruosi commessi sui bambini umani, noi non diamo la colpa a voi, è stata l'agenda oscura della cabala, come da progetto, a tenervi nelle zone di comfort, ma il tempo è drasticamente cambiato ora, ci sono anche quelli che hanno fatto la missione della propria vita quella di abbattere la cabala e risvegliare l'umanità alla mara verità del satanismo, della pedofilia e del cannibalismo su questo pianeta, salutiamo il vostro eccezionale coraggio, grandi guerrieri di Gaia, e vi mettiamo in guardia da coloro dicono che dovete solo amare, luce, perdonare e tutto andrà bene, ci piace sottolineare che concordiamo sul fatto che meditare, visualizzare e pregare è potente, bello e molto necessario e quelli che fanno solo questo sono meravigliosi esseri di luce, tutti voi nascete dalla stessa essenza eppure siete tutti diversi, ognuno ha un pezzo del tutto e uno è importante quanto l'altro, ma c'è chi dice che è tutto ciò che serve e di non concentrarsi mai su nulla appartenenti all'oscurità, e che, carissimi, non può essere la luce, se tutti sul vostro pianeta lo facessero, chi salverebbe i bambini dei dam, 8 milioni di bambini spariscono in tutto il mondo all'anno, e non possono essere salvati solo meditando, pregando e alzando la vostra vibrazione, almeno non se avete fatto tutti solo questo, chiunque dica che è tutto quello che tutti devono fare è un agente dell'oscurità, queste persone sono infiltrate da spiriti maligni legati a loro e non ne hanno idea, nulla potrebbe essere più pericoloso da dire o da credere, nulla potrebbe essere più lontano dalla verità, niente potrebbe essere più ignorante ed egoista, e niente potrebbe mostrare di più quanta paura hanno queste persone, quanto sono terrorizzati questi individui dall'amara verità, sono qui per distrarvi con i loro canali di ascensione di amore, di luce, di perdono e di alzare le vostre vibrazioni, l'equilibrio è la chiave di tutto, l'equilibrio è la chiave della liberazione del vostro pianeta, seguite le notizie, cercate la dolorosa verità, ma non dimenticate di meditare e coccolarvi, tutta l'umanità è stata messa in isolamento, ora è il momento per voi di fare ricerche, ora è il momento di guardare la disgustosa e orribile verità negli occhi, cosa succederà se lo farete, sarete terrorizzato, avrete paura, sarete disgustati, soffrirete, piangerete un sacco, non dormirete molto, Rumi dice, devi continuare a spezzarti il cuore prima che apra, la ferita è dove entra la luce, dopo lo shock iniziale, vi arrabbierete molto, è qui che iniziate a contribuire al bene di questo pianeta, perché, perché è qui che volete che tutti sappiano, questa è l'unica possibilità che abbiamo per disinnescare il male di questo mondo, illuminate prima voi stessi e non ascoltate chi non porta la torcia della verità e vi dice di ignorarla, poi passate la torcia al prossimo e al prossimo e al prossimo, la vostra ignoranza è il loro potere, cerchiamo di essere illuminati e sapere tutto quello che fanno, questo è ciò che tira via il tappeto da sotto i loro piedi, la luce arriva sempre prima, la luce è informazione della verità, dovete affrontare la verità, scoraggiare la cabala, poi costruire un nuovo mondo basato sull'amore e sulla luce, perché si chiamano illuminati, illuminati significa quelli che hanno la luce, perché tutti loro sanno quello che voi non sapete, se volete creare un nuovo mondo, il vecchio prima deve morire, il vecchio mondo è il mondo dell'oscurità, quindi, portate prima la luce in questo mondo, l'amore è ciò che segue dopo che il primo lavoro è stato fatto, strato dopo strato le bugie, l'inganno, il terrore e il controllo devono essere suddivisi, questo mondo è in guerra, questa guerra è una guerra spirituale, il bene contro il male, non il buono contro il cattivo, questo è Dio contro Satana, l'angelo contro il demone, cui, quoziente intellettivo, contro intelligenza artificiale, amore contro paura, non sottomettetevi alla paura, ma non chiudere gli occhi quando appare la bruttezza, mantenete la luce, nessuno combatterà questa guerra per voi, a nessuno ti è consentito interferire, oltre a quelli presenti incarnati tra di voi, questo è l'universo del libero arbitrio, non ci è permesso interferire con il vostro libero arbitrio, siete voi a capo del vostro futuro, sì, la federazione galattica vi sta guidando e aiutando ma questo è il vostro pianeta, la vostra lotta, svegliati famiglia di luce, siete portatori di luce, fuori legge, combattenti del sistema, siete nati per fare questo, vi informiamo anche che questa battaglia è già vinta dalla luce, e tutto ciò che sta accadendo è giocato fuori dalle linee temporali, quanto velocemente le cose cambieranno per voi, e interamente nelle vostre mani ora, nessuno ha detto che vi sareste seduti in meditazione e facendo solo questo, avreste cambiato un sistema di frequenza, dal controllo alla libertà, ancora una volta, ci sono quelli cui incarico è solo quello, ma quelli non sono la maggioranza del vostro pianeta, l'ascensione lavora passo dopo passo, prima arriva la luce, la luce, verità, facilita un processo di apertura del cuore che porterà all'amore incondizionato, a volte questo processo richiede anni, non ci siete ancora, non potete saltare in aria, prima arriva la luce, il vostro compito è quello di riportare luce in questo regno, vi amiamo grandi guerrieri di luce, continuate a diffondere la verità, ora è arrivato il tempo di risvegliare tutti intorno a voi, condividi le informazioni sotto forma di video e testi con tutti quelli che conoscete e piantate il seme nella loro coscienza, questo è tutto, e non fidatevi di chi vi dice di non farlo o di quelli che dicono che non sta succedendo nulla perché non ci sono prove, questi sono gli agenti del lato oscuro contro cui siamo in guerra, attenti, usate il discernimento, attenzione quando leggete post così, se volete cambiare questo mondo, dovete prima sapere cosa c'era di sbagliato esattamente, vi amiamo, siamo la vostra famiglia di luce, benedizioni di luce divina a tutti, Aurora Rey ambasciatore della Federazione Galattica Alto Consiglio degli Anziani Lirano Emissario della Dea, traduzione Marina